Un'esecuzione in pieno stile mafioso, quella avvenuta intorno alle 15.30 di domenica 16 giugno in località San Martino Tagliata, tra i comuni di Mattinata e Vieste, nel Foggiano, costata la vita al 36enne Bartolomeo Notarangelo, raggiunto da alcuni colpi di fucile mentre si trovava all'interno del suo terreno agricolo. L'agguato mortale è avvenuto nella stessa area, dove circa un anno fa era stato vittima di un omicidio il 28enne Bartolomeo La Pomarda. Al momento sono ancora da verificare eventuali collegamenti tra i due fatti di sangue. Notarangelo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti penali, nonché per dei legami di parentela con la famiglia Quidadamo, ritenuta vicino ad ambienti criminali mattinatesi e con Angelo Notarangelo, ex boss di Vieste, ucciso nel 2015 dal pentito e reo confesso Marco Raduano, a sua volta capoclana della mafia garganica. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con elisoccorso ed i carabinieri della locale compagnia, ai quali sono affidate le indagini del caso. «Noi non abbiamo paure, non vivremo nel terrore», scrive il primo cittadino di mattinata, Michele Bisceglia, in un posto sul proprio profilo social. «Sappiatelo, voi che minate la nostra storia e la nostra credibilità, che questa comunità vi chiama proprio col vostro nome, senza sé e senza mavi, gli acchi assassini. Mattinata e Dio nel mio piccolo non ci arrenderemo mai», conclude il sindaco della cittadina garganica, colpita dall'ennesimo fatto di sangue. Massaggia Musica Musica Musica